che salutiamo ben trovato spalletti se presentato con delle rose le chiedo per per chi sono immagino per il suo napoli e poi sono per ricordare masamini e a dis najafi ma mi pare di capire che non voglio aggiungere null'altro no non voglio aggiungere altro gesto assolutamente lodevole e importante e le chiedo